Allora, mi chiamo Simone Galli, ho 21 anni e basta, 10 secondi stanno per passare. Devo guardare in camera? No. Basta, canto, recito e a volte ballo quando nessuno mi guarda. Sì. Il mio provino avevo la faringite, quindi ero disperatissimo perché sentivo tutti che cantavano Anastasia, Celine Dion. E io ero lì che dicevo che c***o faccio. Allora ho detto va bene, rischiamo il tutto per tutto, ho portato un pezzo di Nicki Minaj di rap che non dovevo cantare più di tanto. Ah, chiudi, rifai, taglia. Vado. This one is for the voice with the boom, insiste, top down AC with the cool, insiste, when he come out of the club, he be blazing up, got stacks on deck, like he's sailing up in the hill, he real, he might got a deal, he pop but I'll send you the right, can't do it, he code, he dope, he might sell coke, he always in the air but he never fly, he's a motherfucking trip trip, sail around the ship ship, when he make a trip trip, kiss him on the lip, lip, that's a kind of dude, absolutely. Eccetera, eccetera, eccetera. Allora. Ma poi torno a casa mia? E allora? Ci penso a volte, però rimango col non lo so. Qualcosa per ascoltare la musica? Ma su questa isola? Vegeto sull'isola. Qualcosa per vedere i film e le serie tv, quindi una connessione a internet direi? Non mi piace questa domanda. Lì non mi, perché non riesco a capire cosa devo cantare e quando devo cantare la voce, che secondo me è uguale a Duck. Mi dispiace, ho fatto, sono io quello che fa casino in tutta la canzone. Per l'amore di Greggy direi una canzone di Ed Sheeran. Greggy è Greg, Andrea, Mattia, Grieco. Quello che fa i video, che fa le foto, che canta ogni canzone da solista. Sì, tantissimo. Sì. Sono sicuro che Greggy ha un buon senso sviluppatissimo. Credo che mi figlia la scrap. Telefono. Un gruppo di ragazzi che da sconosciuti diventano quasi i tuoi migliori amici. Ti sanno aiutare anche nei momenti più difficili. Non sanno quello che hai. Ti capiscono e ti aiutano senza fare troppe domande. Un gruppo che ti sa stare vicino. Sono cose difficili da dire. No, non è vero, mi piace stare in Progetto Greek. È tante cose, Progetto Greek. Non si può definirlo in una sola cosa. È una cosa nuova. È una cosa nuova. È tanto sonno. Ciao ragazzi!